Per Cancro Primo Aiuto Onlus, un incontro che nasce dall'esigenza di presentare alla nuova dirigenza destinata a tracciare i prossimi 5 anni della sanità in provincia di Sondrio i propri progetti futuri, confermando il supporto e la vicinanza sia all'azienda sociosanitaria territoriale che all'Agenzia di Tutela della Salute. Pranzo d'incontro quest'oggi a Sondrio, presso il centrale Grand Hotel della Posta, con i vertici dell'ATS Montagna, di ASST Valtellina e Altolario e di Croce Rossa Sondrio, oltre che con il presidente della provincia ed il primo cittadino del capoluogo. Presenti all'Apening le principali testate giornalistiche locali. Visto che abbiamo una rappresentanza e anche la presidenza valtellinese ovviamente ci impegneremo per continuare su questa strada che abbiamo intrapreso da anni ormai sia con l'ospedale che con la ex ASL attualmente AST Valtellinese. Un mondo, quello dell'associazionismo, che nell'intera provincia di Sondrio svolge un ruolo di importanza nevralgica colmando vuoti e fornendo ausili dei quali i pazienti, non soltanto oncologici, necessitano. A ridosso di un 2018 durante il quale Cancro Prima Aiuto ha fornito approssimativamente 65.000 prestazioni a titolo gratuito rivolte a circa 32.000 malati, rivolgendo la propria attenzione a progetti che vanno dal sostegno psicologico ai pazienti fino al trasporto dei malati e all'acquisto di nuovi macchinari, risulta ancora più evidente quanto la macchina della solidarietà sia, lungo questo territorio, particolarmente rodata. La TS da sempre lavora con le associazioni, basta pensare all'Ottobre Rosa, a tutte le iniziative che noi riusciamo a organizzare grazie proprio allo straordinario lavoro dei volontari che sul nostro territorio è veramente prezioso. Cancro Prima Aiuto ci fornisce di pulmini e contribuisce alle spese del gasolio, del mantenimento del mezzo, quindi noi siamo veramente molto molto grati perché permette a noi di poter offrire appunto un servizio gratuito fondamentale che risponde pienamente ai principi della Croce Rossa. Per me sono le associazioni che contribuiscono a garantire ciò che il Servizio Sanitario Nazionale non riesce in modo così veloce. Una rapidità di azione che la ONLUS ha in programma di attuare anche grazie ad una collaborazione con altre entità associative della Lombardia. Un'attività sempre più capillare e dunque riconosciuta dai vertici provinciali e del capoluogo. Le associazioni in Valtellina sono una risorsa importante del territorio e Cancro Prima Aiuto è una di queste associazioni che ha tutto il sostegno da parte della provincia ma non solo perché fa cose grege di assoluta importanza e di assoluto rilievo. È importante nell'ambito in particolare della sanità che è un tema che sta molto a cuore alla nostra comunità quindi la collaborazione tra queste associazioni e la nostra sanità è benvenuta.